Dopo l'elezione sfumata alle regionali nel 2015, nonostante le quasi 5.000 preferenze ottenute, lo scranno da deputato mancato per poco nel 2018. Baldelli, questa è la sua rivincita? Più che rivincita io parlerei di coerenza, di determinazione e di presenza in mezzo ai cittadini. Queste tre caratteristiche hanno consentito di ripetere i risultati elettorali delle scorse competizioni elettorali che non ci avevano consentito una elezione solamente a causa di leggi elettorali che non rispettano il voto purtroppo dei cittadini. A Pergola Fratelli d'Italia ha raccolto oltre il 46% delle preferenze alla Camera. Cosa ha spento gli elettori a scegliere il partito della Meloni e quindi anche a sostenerla? Il successo è stato davvero straordinario, ancora più straordinario è lo stato nelle Marche dove Fratelli d'Italia ha raggiunto oltre il 29%, quindi più 3 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Questo sicuramente è dovuto alla grande figura della nostra leader Giorgia Meloni e alla squadra di Fratelli d'Italia Marche che ha saputo costruire in questi anni con coerenza e con grande passione. Lo dobbiamo anche poi al modello Marche che è stato creato in 23 mesi dal presidente Acquaroli e dalla sua giunta regionale che sta ricostruendo le Marche dalle macerie che sono state lasciate da oltre 20 anni di governo di sinistra. Io penso ad esempio al nuovo piano sanitario, quindi alla sanità pubblica di cui si sta discutendo in questi giorni che ricostruirà con pazienza e nel tempo la sanità pubblica della regione Marche. Così penso, quando parlo di concretezza, a ciò che è avvenuto nei mesi scorsi, quando il governo nazionale ha riempito le nostre scuole di banchi a rotelle che ora giacciono in qualche deposito o forse in qualche discarica, mentre la giunta regionale ha dotato le nostre scuole di moderni impianti di ventilazione meccanica controllata che hanno abbattuto i virus e che rendono i nostri spazi scolastici più salubri, spazi dove per l'appunto vivono numerose ore del giorno i nostri giovani e tutti gli operatori scolastici. E viste le diverse emergenze che hanno colpito il nostro paese ma anche la nostra regione, quali sono le altre azioni prioritarie? In questo momento pensiamo alla ricostruzione dei comuni colpiti dall'alluvione. Dobbiamo aiutare le famiglie e le imprese e il commercio di questi comuni a risollevarsi. Sembra che l'attuale governo non lo stia facendo, lo farà sicuramente il prossimo governo. Si dimetterà da consigliere comunale a Pergola? Rimarrò consigliere comunale perché questo è il mandato che mi è stato conferito dagli elettori, dai miei concittadini, che non posso tradire, quindi sarò presente a Pergola come sarò presente in Parlamento. Invece quando partirà ufficialmente per Roma? La prima riunione è prevista per il prossimo 13 ottobre. E lì ci sarà l'insediamento ufficiale? Ci sarà l'insediamento ufficiale. Buon lavoro. Grazie.